Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Piccolo video sulla questione Donnarumma, il protagonista della finale di Coppa Italia, ovviamente in negativo, che ragazzi in queste ore è stato pesantemente attaccato anche da tifosi del Milan, che alcuni addirittura vogliono che se ne vada, lui, Raiole e compagna bella. E' ovvio ragazzi che a mio giudizio è una reazione un po' esagerata, perché Donnarumma ragazzi è un portiere del 99, cioè ha 19 anni. Ora, quanti portieri così giovani conoscete che giocano titolari in una squadra blasonata come il Milan? Sono davvero pochi e sono pochi anche i portieri che promettono, in vista del futuro, così bene. E' ovvio che, a mio giudizio, c'è stata un'esaltazione esagerata quando magari lui ha fatto bene, ma adesso mi sembrano esagerate anche le accuse nei suoi confronti. E' stato veramente pessimo ieri sera, nonostante, prima del 2-0, abbia fatto delle parate prodigiose anche su Dybala, ragazzi. Aveva fatto due parate sontuose, tutti io lo stavo giudicando come tra i migliori in campo, e anche con i piedi, ragazzi, aveva fatto dei lanci perfetti sempre per i terzini. Aveva aiutato tantissimo il Milan ad uscire dal pressing, veramente era stato uno dei migliori in campo. Poi, qual è il problema? Che il portiere è un ruolo delicato, perché se una cappellata, un errore grave, una papera, la fa un attaccante, come è stato ad esempio, mi viene in mente Icardi nel derby, che si è mangiato due gol a porta vuota da goleador, qual è? E' stato un errore grave, quindi non è che abbiamo detto Icardi è una pippa perché ha sbagliato quei due gol. Abbiamo detto, ok, sono errori non dai Icardi, ma non abbiamo detto, ok, ormai è una pippa. L'abbiamo giudicato sempre per il grande attaccante che è. Stessa cosa Donnarumma, solo che essendo un portiere, quando tu fai un errore grave, praticamente pesa molto di più. E questa è anche una responsabilità molto pesante che hanno i portieri, e immaginate poi un portiere così giovane, della sua età, appunto, ancora magari con più pressioni addosso. Con questo voglio dire che Donnarumma magari non varrà veramente ancora a 150 milioni perché ancora ha dei difetti, ma ha 19 anni, ragazzi, lasciatelo crescere. E poi voglio dire, soprattutto ai tifosi milanisti, ok, lo mandate via. E con chi giocate in porta? Con Reina? Con altri portieri più scarsi? Donnarumma potenzialmente può fare ancora a 10 anni a grandi livelli. Potrà crescere, potrà migliorare dal punto di vista anche della personalità, del carattere, a mio giudizio, perché magari è ancora un po' immaturo. Però ragazzi, dal punto di vista del valore, potenzialmente Donnarumma potrà fare veramente ancora altri 10-15 anni a grandi livelli. Quindi giocare con Reina, ad esempio, che di papere come ha fatto Donnarumma ieri, ne fa a bizzef, sinceramente mi sembra qualcosa di assurdo. Quindi voglio dire, bisogna avere, secondo me, equilibrio. Cioè non esaltare troppo quando ci sono delle buone parate e non criticare troppo quando magari ci sono delle papere. Perché gli errori capitano a tutti. Gli ha fatti Buffon, ragazzi, nella sua carriera, ed è sempre stato giudicato il migliore portiere al mondo. Probabilmente lo può commettere anche un giovane di 19 anni. Questo è il mio parere. È ovvio che, ragazzi, è pesato molto ieri sera perché comunque era in una finale di Coppa Italia. Tra l'altro era anche sull'1-0. Aveva salvato diverse occasioni. Poi è crollato. Forse non era concentratissimo. Forse si è sopravvalutato lui stesso perché magari in alcune occasioni voleva bloccare il pallone piuttosto che respingerlo. Non lo so, ragazzi. Non sono un portiere professionista per poter giudicare, però a mio giudizio è ancora giovane e ha bisogno di tempo anche per migliorare. È ovvio che in una finale è pesato molto. Ditemi la vostra opinione qua sotto nei commenti. Lasciate un like se siete d'accordo con la mia breve analisi. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e seguite i video sui social. Trovate tutti i link in descrizione. A più tardi. Ciao.